Presidente Chiamparino ha parlato di incertezza, voi cosa rispondete? La proposta di consultazione popolare è una farsa che Chiamparino utilizza per non parlare di ciò che non ha fatto in cinque anni e per non parlare dei veri problemi del Piemonte. Uno strumento che non ha nessun valore effettivo, quello della consultazione popolare, peraltro con un impegno che non ha nessun valore effettivo perché parla solo di attivarsi in tutte le sedi. Se Chiamparino fosse veramente a favore della democrazia diretta come lo siamo noi, avrebbe approvato la nostra proposta di legge che proponeva di normare a livello regionale il referendum consultivo. Pensiamo che non sia una richiesta seria e che quindi il Ministero dell'Interno la debba respingere. E a favore della democrazia diretta solo quando gli fa comodo? Se fosse veramente a favore di strumenti di democrazia diretta come il referendum consultivo, avrebbe approvato la nostra proposta di legge che chiedeva di normarlo a livello regionale.